secondo il wrestling observer la wwe al momento di parere negativo sul ritorno di cm punk potrebbe cambiare idea in base ai cori dei fan dedicati al wrestler durante i suoi recenti show a me sembra un po strana sta cosa però nel caso mi limito a riferirvi quanto riporta la fonte in attesa del suo ritorno nel ring arthur ha pubblicato un nuovo brano musicale titolato making the cut lo trovate sulle principali piattaforme social e streaming in una recente intervista logan paul ha detto di considerarsi ritirato dal mondo della box oltretutto da imbattuto con 25 vittorie e zero sconfitte e di volersi ora concentrare totalmente sulla sua carriera come lottatore di wrestling stando a triple h la wwe sotto il controllo di endavor sta viaggiando ad una velocità dieci volte superiore rispetto a prima e a giudicare dalle voci di corridoio di questi giorni presto potrebbero esserci delle importanti novità in alcuni punti cardine della federazione di condivisione 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 di